Lei dice nel suo libro che in Sicilia si muore perché si è soli, giacché lei fortunatamente è ancora fra noi. Chi la protegge? Questo significa che per essere credibile bisogna essere ammazzato in questo paese. No, io non dicevo questo. No, forse io non volevo fare una domanda. Fino ad ora sono vivo e mi spiega molto bene che bisogna proteggerti molto. Lei ne parla a lungo nel libro tra la protezione, del non voler, dell'essere sempre coperto. Questo è il paese felice in cui se ti pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, ma colpa è tua che non l'ha fatta esplode. No, per carità. Guardi che è così. Non lo devi dire, questo è molto amaro, forse è la cosa più amara che... E' stato scritto o è stato detto? Il giudice Falcone ha delle ragioni. Sapere dal giudice Falcone se è vero o è un luogo comune che la mafia sia riuscita a arrivare ai vertici del potere e quindi anche a Roma. Anche questo, se ne si consente, è una frase grave che la roba specchia è un luogo comune. Che cosa significa essere arrivati al vertice? Che cosa è il vertice del potere? In che periodo è andato al vertice del potere? Tutte queste cose dovremmo dire. Insomma, ecco, quello che mi sforzo io di dire è questo. Cerchiamo di sfuggire dagli schemi mentali, cerchiamo di togliergli in mezzo i luoghi comuni e parliamo sul concreto di determinate cose per cercare prima di tutto di chiarirle a noi stessi, per poi poterle chiarire agli altri.